Per prevenire il contagio da Covid-19, lava spesso e bene le mani, rispetta la distanza fisica, indossa la mascherina, cerca di evitare gli ambienti affollati e di non organizzare ritrovi con molte persone. Arieggia sempre gli ambienti. Se hai una malattia cronica o se sei anziano, vaccinati per prevenire l'influenza. Chiedi al tuo medico per saperne di più. Sono norme semplici, ma importanti. Tutti dobbiamo seguirle e avere comportamenti responsabili, per noi e per gli altri. Il Trano della Salute è un'iniziativa di medici con l'Africa QAM Regione del Veneto, insieme a Ferroviari con l'Africa. Grazie.